Sul caso Vancella Amber, il professore Francesco D'Agostino, presidente dei giuristi cattolici italiani e il radicale Marco Cappato, sono d'accordo sulla necessaria interruzione dei trattamenti, mentre sul caso Inglaro avevano posizioni opposte, perché se il primo era convinto della necessità di continuare alimentazione e idratazione, Cappato sostiene. Secondo me il diritto o non diritto di poter decidere di terminare la propria vita non dipende e non deve dipendere dalla tecnica con la quale una persona viene tenuta in vita o dalla tecnica con la quale dovrebbe essere fatto morire. Però la situazione di Eluana, da quello sempre che posso giudicare, era una situazione relativamente più lieve di quella di Vancella Amber, tant'è vero che molti ipotizzavano la possibilità che Eluana potesse uscire dallo stato vegetativo, sia pure in tempi molto lunghi. Grazie.